Inizio ad applicare un acqua color nero con una spugnetta sfumandolo dall'attaccatura dei capelli fin sotto l'occhio, creando quindi una mascherina. Adesso bagno bene diversi acqua color in sequenza e con un pennello molto fitto tondo spruzzo il colore verso la maschera nera. Ricomincio con la stessa sequenza di colori finché il risultato non mi soddisfa e sappiate che è una cosa realmente facile. Contorno alla labbra con una matita nera automatica e questa è di Layla e la sua mina dura mi permette di avere un risultato davvero omogeneo e non sbavato. Applico un rossetto nero cremoso ed applico al centro delle labbra dei glitter con un riflesso freddo che va dal blu al viola. Applico infine una matita nera all'interno della congiuntiva e delle ciglia finte molto allungate esternamente. Applico un'interno dell'interno della congiuntiva e delle fogli che va dalla congiuntiva. Grazie per la visione!